e stiamo per assistere a un classico del calendario di Formula 1 eccoci al Gran Premio d'Italia diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza ci aspettiamo di concludere la gara fra i primi 11, fate il tuo meglio la pista è libera, bandiera verde grazie a tutti fai molta attenzione, bandiere gialli in pista non puoi surpassare finché la situazione non torna alla normalità attendi le bandiere verdi manovra auricolare, cedi la posizione o riceverai una penalità secondo i commissari non paura no paura Grazie a tutti. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse, puoi accelerare. Ok, decimo posto, adesso sei in zona punti. Ok, decimo posto. 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 ok volta se avvena passato in testa non dare gas ok evita la linea bianca l'uscita dai box se l'attraversi ci becchiamo con una penalità per guida pericolosa ehi sono Alex devo chiederti di non tagliare più le borbe altrimenti i commissari ci penalizzeranno ora è circa il 60% del carico iniziale resta il 60% di carburante un pilota del Lotus sta per rientrare ai box la sua squadra si sta preparando per il pit stop la sua squadra si è almeno a fare la mano la sua squadra si è a raggiugato la sua squadra si sta preparando per il tuo passato andiamo a successo e allora qui e l'ai e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.